Buongiorno di Sprint e Sport, buongiorno da Marco De Rosa, oggi Big Match al Collegno Paradiso, Collegno Paradiso contro la River Mosso Pianese 1-1, siamo in compagnia dei due protagonisti quest'oggi, assist e gol del pareggio, ragazzi un commento, partiamo dall'autore del gol del pareggio, Alfonso Mascolo, un commento sulla partita di oggi? È un pareggio che ci meritiamo perché lavoriamo tutta la settimana dura, ci impegniamo, lavoriamo sempre, ci meritavamo. E poi siamo con la compagnia dell'assistman Cristian D'Agostino, oggi tu un po' quello che volevi in mezzo al campo. Sicuramente è stata una partita difficile, ora abbiamo in testa il secondo solo, il secondo posto, perché ormai il primo è un po' difficile, comunque io quando Alfonso fa gol, io sono felice, è uguale, è da un po' che giocamo insieme, quindi io se sei né a lui sono felice. C'è grande solidarietà tra compagni di squadra e noi vi ringraziamo da Collegno.